L'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela aderisce all'evento didattico più popolare al mondo. Si tratta dell'Ora del Codice, un movimento globale che coinvolge decine di milioni di studenti in oltre 170 paesi nella settimana annuale di educazione all'informatica. Il Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, nell'ambito del progetto Programma Il Futuro, inserito tra le iniziative del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, fornisce alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base della programmazione informatica. Un evento a cui parteciperanno tutti gli alunni della scuola per imparare la programmazione informatica, questo nuovo linguaggio che loro sconoscono perché sono fruitori di tecnologia, sanno leggere la tecnologia ma non la sanno scrivere. Quindi con queste iniziative iniziamo a gettare i semi di questo nuovo linguaggio. Qual è stato il feedback ricevuto? Noi abbiamo appeso dei cartelloni e loro poi hanno scritto le loro impressioni, sono tutte positivissime perché loro magari non si rendono conto che stanno ragionando, stanno creando, per loro è solo un gioco, però molto istruttivo. I ragazzi sono abituati ad essere spettatori e fruitori di prodotti informatici, delle nuove tecnologie in generale, però è importante che facciano una riflessione di fondo sui processi logici che sovrintendono a quei prodotti che loro poi utilizzano comunemente. E tra gli obiettivi che si pone questa iniziativa, quella di aderire alla settimana internazionale del codice, è proprio fare quella riflessione, portare i ragazzi a non solo promuovere il pensiero computazionale, come si dice oggi, ma proprio ad avere un'idea più approfondita di quello che loro normalmente trattano. Gli alunni hanno avuto l'opportunità di imparare i principi ed i concetti base della programmazione informatica. È riconosciuto che l'ora del codice stimola la creatività, la capacità di risolvere i problemi e sarà utile per qualsiasi carriera gli studenti vorranno intraprendere. A me è piaciuto perché così si imparano anche cose nuove e miglioro anche a scuola, ma non mi è piaciuto che molto spesso finisci con un mal di testa terribile.